Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Come vedete dal look, nuovo video, nuovo calendario dell'avvento! Finalmente con un bel maglione pesante perché oggi fa freddo! Allora, mi vedete ancora con i vecchi capelli? Credo di averli già cambiati, quindi se siete persi perché non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale perché arriveranno altri calendari dell'avvento, il mio estremo cambio look, probabilmente domani, non lo so quando lo vedrete, però ci sarà già stato, non so che cosa succederà ai miei capelli, sappiatelo, ma so che succederà qualcosa. E niente, adesso andiamo ad aprire questo calendario dell'avvento che io ho preso ormai tipo un mese fa, però poi si sono accumulate altre cose e quindi non l'ho più aperto. A onor del vero ne ho da aprire altri, questo e altri due, forse tre, ma soprattutto poi dovremo andare a preparare i calendari dell'avvento per Luca. Chi non lo sa, Luca è mio marito, chi non lo sa perché non è iscritto al canale, non ci conosce, com'è possibile, com'è possibile? Comunque, devo andare a fare anche i calendari dell'avvento, quindi questi ultimi 15 giorni di novembre saranno belli pregni di cose da fare, perciò iscrivetevi al canale perché, insomma, io non me li perderei i calendari dell'avvento di Luca quest'anno. E soprattutto ho deciso, cioè ce sto a pensare, se ce riesco, che tutti i giorni uscirà anche un mini video qui sugli altri social con l'apertura dei calendari. Quindi ogni giorno faremo un recap di tutti i calendari perché ce ne abbiamo diversi da aprire. Comunque, veniamo a noi perché questo è uno dei calendari più belli. In realtà a un certo punto ho anche pensato di tenermelo da aprire giorno per giorno, ma no, chi se ne frega, io lo voglio subito e ora. Allora, ho trovato su Amazon il calendario dell'avvento di Barbie. Dici, c'hai 40 anni che ha? Sì, lo so, ma sapete qual è la mia passione per Barbie? Solo che c'era il calendario dell'avvento di Barbie con Barbie, però beh c'era Barbie, e gli accessori per Barbie. Ora io amo Barbie, però c'ho 40 anni, quindi non mi sembrava il caso di prendere quel calendario dell'avvento, anche se avete figlie o figli che amano le Barbie, raga, cioè quello è il calendario dell'avvento della vita, perché ogni giorno ci sta dentro un pezzo per vestire Barbie, cioè io l'avrei voluto. Ma se siete degli adulti come me con la passione per Barbie, questo sicuramente farà per voi, perché, cioè, sì raga, è bellissimo. Cioè in realtà lo sto aprendo perché me lo voglio mettere, perché questo calendario dell'avvento di Barbie, che tra l'altro non costa tanto, perché costa tipo 18 euro, che non è poco, ma come sapete io non compro calendari dell'avvento e costano più di una ventina di euro, cioè 20 euro sono già tanti, però questo è dei Barbie, quindi li valeva per quanto mi riguarda 18 euro, mi sembra 18,90 ad averlo pagato su Amazon, credo che ancora lo trovate, scrivete il calendario dell'avvento Barbie, e ce n'era anche un altro con tipo gli accessori per la scuola, però pure lì, cioè, che ce faccio? Invece ora vedrete questo e direte, beh, ovvio che questo l'hai preso. Allora, questo calendario dell'avvento è un calendario dell'avvento con braccialetto, e tutti i charm sono a tema Barbie, ma soprattutto il calendario dell'avvento vi arriva, vabbè, a parte incartato così questa, la levamomo, incartato così, questa la leviamo, dietro c'è lo spoiler, guardate che meraviglia, cioè, è tipo un portagioie, è un portagioie di Barbie, è in cartone chiaramente, cioè, non è che è plastica, però è di quel cartone rigido che tu tranquillamente puoi riutilizzarlo come portagioie, perché qui si chiude addirittura. Cioè, quanto è bello! Praticamente c'ha le Barbie, che poi tra l'altro questo disegno ce l'ho anche su una maglietta, c'ho una maglietta presa, non mi ricordo, forse su Sin Sai, che c'ha lo stesso disegno. Qui davanti c'è Barbie iconica, quanto è bella, con il loghino, la palma, tutta questa trama che è delle Barbie più moderne, diciamo, qui dietro c'è scritto Barbie, cioè, è veramente bello. Quindi ho pensato, sì, stai spendendo 18 euro, quasi 19? Vero, ma alla fine avrai un bracciale di Barbie, che chi non lo vorrebbe, un bracciale di Barbie, ma soprattutto c'avrai anche il portagioie di Barbie da mettere sul comodino. Quindi nella mia testa ho fatto un affare, come fanno vedere quei video su TikTok dove fanno Girl Matt, la matematica delle donne, che quando ti compri qualcosa per giustificarte, no? Ecco, io ho fatto lo stesso discorso per il calendario dell'avvento dei Barbie. Secondo me era un buon affare 18,90 euro il beauty, cioè il beauty, il portagioie e il bracciale. Ma comunque, veniamo a noi e apriamo. Oddio, sono emozionata, sono lì da un sacco di tempo, lo volevo troppo aprire. Ci siamo. È arrivato il momento. Apriamo. Vediamo come... Ah, c'è pure questo pezzo è di velluto. Cioè, capite la cura del dettaglio? Oddio, sono emozionata. Ci saranno le scatoline o le finestrelle? Non lo so. Ma è bellissimo! Ma in che senso? Cioè, aspetta, 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 capiamoci, capiamoci. Cioè, tu lo tieni chiuso così, poi vuoi aprirlo e quando lo apri c'è Barbie! Sì, ma poteva costare di più dei 18,90. Ma poi guardate l'interno, c'è anche lo specchio, vabbè, che è deplastica, chiaramente. Cioè, guardate l'interno, che meraviglia! Oh mio Dio! Poi c'è il primo piano e il secondo piano. Perché voi così dopo questo lo togliete e vi resta il portagioie. Qui c'è il cartone che potete scegliere di togliere. Però se lo tolgo mi si leva Barbie. No, no, mi dispiace, io lo lascerò perché la scatola è più profonda ma qui in realtà c'è pezzo di cartone. potete scegliere di toglierlo però togliete anche Barbie. Non lo so, sono molto combattuta da questa cosa. Oddio, no, lo tengo così. Cioè, tanto qui comunque che ci metti i pezzetti degli orecchini e cosine piccole. Oddio, è meravigliosamente meraviglioso. Cioè, diciamocelo. Comunque, il calendario dell'avvento è costituito da queste due scatoline e in teoria dentro ci dovrebbe essere il bracciale e tutti i ciondoli. Sono 24 caselline e ora le andremo a scoprire una ad una. Una ad una. Che emozione. Allora, la casellina numero uno che è qui in ordine. questo è un po' un peccato. Allora, togli il cuoricino col numero e sotto c'è della velina tipo che devi rompere. rotta la velina esce il braccialetto una collana non è un braccialetto che è esce il braccialetto che chiaramente è de de ferro. Cioè, non è che è un bracciale extra lusso, eh. Però è un braccialetto a catenina perché secondo me i charme in questo braccialetto non si infilano ma ci si attaccano. Vedete com'è fatto? Molto carino comunque. Però, secondo me ha la misura più piccola a me mi sta grande. Oia! Io ho il polso molto piccolo però cioè, in linea di massima questo in teoria è fatto per i bambini, no? Io ho un polso piccolo ma comunque un po' più grande del polso di una bambina suppongo. Quindi, regà, forse vi dico forse avete sbagliato le misure perché qui mi c'entrano quattro dita tra il mio polso e il braccialetto una bambina lo usa come collana non lo so vedete voi quelli di Barbie esce da solo dal mio polso ma se lo vado a mettere più stretto mi avanza troppo coso cioè, per andarmi bene io lo dovrei mettere tipo qua cioè, guardate quanto ne avanza non lo so boh cioè, come fa un bambino a metterselo? L'avete fatto troppo lungo quelli di Barbie? dai vabbè, comunque carino è il braccialetto ce lo aspettavamo? sì, perché sennò dove li mettevamo i ciondoli allora, cosa carina è che in teoria se tu avessi il polso di tuo padre potresti metterti il braccialetto e poi ogni mattina attaccare un ciondolo al tuo braccialetto questo solo se c'hai il polso di tuo padre perché sennò questa cosa non viene bene allora, casellina numero 2 oddio oddio no, ma anche se no, vabbè no, no, non ci credo non ci credo non ci sto credendo è meraviglioso a parte che è fatto benissimo ed è plastica ma è tipo smaltato con la scritta io ora li attaccherò tutti e vedremo il risultato finale e poi sbraiteremo perché è troppo grande però ora io li attaccherò oh mio dio ma è troppo bello andiamo avanti questo per me ha già vinto poi qui c'è una bocca sì, non è estremamente riconducibile a Barbie effettivamente nel senso che è una bocca non è proprio però magari nell'insieme ha senso quindi abbiamo una bocca no, la bocca a me piace quelli di Barbie cioè la scritta Barbie era bella bocca non è che mi piace tanto però va bene lo attacchiamo lo stesso quattro va bene che vi faccio vedere ogni porto al calendario dall'avvento c'è la capoccia comunque sia le cose si trovano raramente quest'anno sono stata fortunata perché con tutte le varie collezioni dei vari negozi perché è uscito il film ho trovato roba dappertutto da Primark da Pepco tutti avevano Barbie per carità Zwicky le borse le cose ma se no in un anno normale non è semplice invece questo è proprio carino cioè ti rimane una cosa che puoi usare effettivamente se ti piace Barbie qui ci sono degli occhiali a forma di cuore con scritto Brave Bolo Bola Fearless non si capisce perché è un po' sgranato boh vabbè comunque occhiali quindi abbiamo capoccia bocca occhiali scritta Barbie è molto carino regà molto 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 carino va bene dai spesso 18 euro nel modo giusto sono pure rimasti tutti belli incastrati dentro perché considerate che io l'ho comprato su Amazon mi è arrivato tra l'altro mi era arrivato a Roma quando stavo a Roma quindi ci ho fatto pure il viaggio è stato sbatacchiato qui per casa eppure oh bello cuoricino righe classico queste sono le righe del primo vestito che era un costume della prima Barbie creata poi 7 mi metti un cuore vicino a un cuore però bello però questo perché ha un cuore con la capocetta del Barbie quindi questo ci piace e lo attacchiamo qua 8 andiamo veloce andiamo veloce stand strong scrittina vabbè carino niente di che forse un po' troppo grande certo poi tesona tutto il braccio con questi cosi perché ce ne entrano veramente un sacco vabbè comunque socciondoli poi li potete attaccare dove pare non è che li dovete per forza tenere attaccati a questo bracciale evidentemente troppo grande anche per vostro padre un paio d'occhiali rosa vabbè questi sono riempitivi diciamocelo però carino 10 cuoricino con occhi a cuore cuore su cuore viola però stavolta ok attacchiamo pure questo 11 macchinina di Barbie con il logo di Barbie però questo è un po' gigantesco ma va bene poi comunque è Barbie raga quindi tutto quello che è Barbie alla fine è carino cioè segno della vittoria o del devo andare in bagno non so bene perché è celeste cioè è tutto rosa rosa e nero viola e poi c'è questo che è celeste perché perché avete deciso di farlo celeste cioè cosa vi ha spinto al celeste e passiamo al secondo porta coso qua alla seconda pagina del calendario dove dentro troviamo una stellina lilletta molto piccola rispetto ad altre cose sì ma un po' grande cioè il bracciale è grande perché ci devono entrare tutti questi però poi se è pieno non riesci a mettertelo l'occhio l'occhio di Barbie Ferragni eccolo questo è chiaramente l'occhio di Barbie Ferragni Barbie che non ha occhi fatti così quella è la Ferragni però va bene poi sarà ispirato certo potrebbero fare la Barbie Ferragni potrebbero fare anche Barbie me cioè Barbie Bubina non la comprereste io la comprerei io ce l'ho Barbie Bubina in realtà ve l'ho fatta vedere è la Barbie vestita da sposa con il mio esatto vestito da sposa è bellissimo unicorno no vabbè c'ha scritto Barbie sul collo unicorno tatuato con scritto Barbie sul collo ok questo è bello non si incastrano più sti cosi eccolo sedici aiuto che cos'è mani Barbie gialle un po' troppo gialle forse che fanno un cuore dentro la capocetta dei Barbie perché le mani sono gialle così sono le mani di un Simpson che è pure questa è un po' grande però va bene uguale diciassette sono rimasti tutti esattamente al posto loro cosa che non si può dire spesso dei calendari molto più costosi cioè che vedo in tv chiaramente perché io vi ricordo non compro calendari che costano più di 20 euro anzi meno di solito 10-15 euro questo è tipo l'eccezione per me cioè non ho mai speso così tanto per un calendario preferisco spendere tanti soldi magari perché una volta Luca ha fatto un calendario anche molto costoso ma fatto da me cioè le cose da mettere dentro le scelgo io e ne vedrete uno bellissimo che farò tra poco grazie ad un'azienda che mi ha contattato e sarà veramente bello il calendario dell'avvento perfetto per Luca penso che uscirà il video la settimana prossima quindi iscrivetevi al canale se non siete iscritti perché la settimana prossima esce il video epico del calendario dell'avvento per Luca e qui abbiamo trovato un cupcake carino colori carini con l'oghino di Barbie questo mi piace molto non lo so se alla fine devo tipo permettermelo scegliere delle cose da tenere sul braccialetto qualcosa lo tolgo perché è veramente parecchio ingombrante boh vabbè cioè allora voi direte ma tuo marito fa il cantante dovresti amare la musica no non particolarmente quindi questo lo capisco un po' poco anche riferito a Barbie che è Barbie musica cioè non ha molto senso le note musicali che perché 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 avete scelto le note musicali non lo so vabbè comunque l'attacchiamo qua 19 che è questo è gigante non esce allora apprezzo perché è un unicorno apprezzo meno perché è un cavallo alato ma è gigantesco cioè è tipo il doppio di tutti gli altri ciondolini non ho capito bene la scelta di mettere un cavallo alato con corno ma vabbè attacchiamo pure questo 20 20 un po' carino questo questo è carino arcobaleno con la capoccia di Barbie questo è carino comincia a essere ingombrante e sì cioè devi metterne uno in ogni buco e quindi poi è pieno fino all'ultimo anellino di conseguenza come faccio poi 21 non va bene per i bambini non va bene manco per me palma carina la palma però la palma è molto piccola rispetto all'unicorno che è gigantesco palma poi 22 good vibes mandatemi delle good vibes perché sto per tagliare i capelli e non so come good vibes sì ragazzi sarà un'esperienza mistica quella di domani spero di portarvi con me in tutto il percorso non voglio che sto andando a fare però sto andando a fare una cosa un po' estrema e non so bene che cosa succederà alla fine ma io le cose le faccio e basta senza pensare quindi guardate il video di domani sarà bello forse spero non lo so non ci voglio pensare oh bello questo lo amo questo lo amo tantissimo ok questo mi piace il mini logo di barbie bello 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 il mini logo di barbie ci piace l'ultima casella vediamo cosa ci riserva barbie per il 24 di dicembre tu ti svegli e trovi potete non mettere il logo di barbie all'ultimo tu ti svegli e trovi un cane con gli occhiali rosa è un bulldog francese quindi è il cane di Chiara Ferragni non lo so non c'è nessun riferimento a barbie in questa cosa ah quasi nella cosina che c'ha al collo il cane c'è il logo di barbie che è talmente piccolo che io che c'ho 40 anni e comincio a non vederci tanto bene non so come ho fatto a vederlo allora stacchiamo l'ultimo fregnettino qua 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 ok questo è il bracciale nella sua totalità questa cosa alla fine ci è costata 18,90 euro però vi ricordo che vi resta anche il portagioie quindi secondo me rimane un affare allora sono contenta di averlo comprato ma in realtà si ve dirò cioè allora poteva essere fatto meglio sicuramente nel senso che è molto grande il bracciale proprio anche adesso che ci hai messo tutti i ciondoli comunque per chiuderlo mi avanza un pezzo così e mo sta roba da metto perché questi non riesci a metterli più fitti di come stanno quindi cioè mi immagino il polso di una bambina sarà così ok così io ho i polsi piccoli vi ripeto però il polso di una bambina sarà così tutto il resto del bracciale doso lo mette però allo stesso tempo volevi fare una cosa del genere potevi allora fare la catenina più lunga e questo sarebbe stato una bellissima ecco considerate che mi mancano tipo tre centimetri per metterlo giro collo quindi poteva essere una catenina forse più che un braccialetto nel senso troppo grande per essere un braccialetto potevano farci a sto punto la catenina cosa che non escludo che farò nel senso che come braccialetto è grande cioè non mi entra mi sta grande e quindi potrei visto che alla fine questi charm hanno solo il gancetto per attaccarli no potrei tranquillamente prendere una catenina che ne so su shin con lo stesso tipo di maglia e farci una catenina in modo anche da separarli di più perché così se li metti anche al braccio prende se vedono quindi potrei prendere una catenina per separarli di più e farci una bella collana di barbie magari eliminando quelli che non mi piacciono troppo e lasciando solo quelli più barbosi diciamo quelli proprio che hanno un po' il logo un po' più barbie spire leverei non lo so è bello su unicorno però è veramente troppo grosso non lo so leverei ma no alla fine sono carini dai perché leverei il segno del bagno celeste boh non lo so sì probabilmente userò i charm per farmi una collana mi piace come idea oppure si potrebbero usare da attaccare agli orecchini cioè ti metti i cerchietti e ti attacchi questo e fai gli orecchini di barbie usando che ne so la scritta tipo questo non lo so comunque se possono fare un sacco di cose perché li puoi comunque girare e rigirare come ti pare mi piace sì mi piace molto lo ricomprerei lo consiglierei sì lo trovate su amazon io rispetto a tanti calendari dell'avvento che ho visto nel corso degli anni comunque sono una grande appassionata quindi guardo anche tanti video su youtube 19 euro è una cosa che alla fine una bambina un bambino si aprono giorno per giorno tutti i giorni uno per volta alla fine almeno è carino ti resta qualcosa di carino visto certa monnezza un giro tipo quello coperto delle pietre quello era veramente una monnezza quello era proprio una monnezza e questo va bene anche se avete amici o amiche o fidanzate fidanzati o quello che sia che amano barbie alla follia tipo me nel senso che se il mio marito me l'avesse regalato come calendario dell'avvento io sarei stata molto felice senza dubbio bene soprattutto di questo questo è bello stiamo a sottovalutare ma questo è bello proprio questo te resta è proprio carino bene quindi da questa nuova apertura di calendario dell'avvento di barbie è tutto e noi ci vediamo questa manco da coperta esce per farse vedere capito faccio salagna sotto la coperta al prossimo video ciao